Ciao ragazzi e benvenuti nella quarta parte, scusate che se no ho fatto la terza parte ma 13 minuti, 4 minuti, poi non mi accorgo io vorrei fare tutte di 10 minuti se è possibile, però stando da solo mentre parlo non me ne accorgo del tempo che passa, ok? Allora andiamo a mettere la guaina su questo cavo per non lasciarlo così, allora come facciamo? Prendiamo il nastro bianco e facciamo questa tecnica, attenzione che il nastro è buono ma se state all'aperto e fa freddo il nastro si spezzetta tutto, D'estate invece è molto più morbido ma quello è normale, allora cosa facciamo? Andiamo a mettere prima il connettore, io vi consiglio l'aletta, qui c'è l'aletta, qui questa aletta, andiamo a mettere il nastro poco sotto l'aletta, non molto sotto, in questo modo, una volta fatto questo andrà anche qui, non da coprire questi ai contatti, quindi non dovete coprire i contatti, ma questa parte qui, un po' sotto l'aletta, non molto, ecco ve lo faccio vedere, Andiamo a girare e non prendendo sempre l'aletta, non la dovete prendere perché dovete lasciarla libera, andiamo a fare questo, quindi, so che, allora so che non è molto carino da vedere, perché giustamente meglio il termore stringente, però io l'ho detto prima, se usate il termore stringente meglio ancora, Allora, se no fate in questo modo per non tirare più che altro i cavi, tanto questa roba va comunque dietro i mobili, quindi non va davanti, ecco, fate in questo modo tutto intorno, se è possibile vi fate reggere il cavo in questo modo, così vi danno una mano, se no fate da soli, e fate questo, girate piano piano, girando piano piano, fino ad arrivare, fino alla fine, Allora, ve ne faccio vedere uno, se no, tutti i cavi poi ci vuole molto, allora, eccolo qua, quando siete arrivati alla fine, o tagliate così, o con le forbici, o così, benissimo, o con le forbici, allora, adesso questo è pronto, eccolo qui, ed è, vi ripeto, se avete il termore stringente lungo, ok, meglio usare il termore stringente, però, anche in questo modo, va bene lo stesso, Adesso la linguetta è libera, eccola qua, quindi non prendetela con il nastro, se no vi rimane schiacciata, poi, magari, se muovete il cavo vi si sfila, e prendesi al correttore con i cavi, quindi non posso più tirare molto, perché c'è il nastro comunque che mi tiene, la stessa cosa dovete fare all'altro cavo, e una volta fatto questo, facciamo finta che anche questo cavo è pronto, una volta fatto questo, chiudete, in chiusura fate questo, quindi partitete un po' più giù, e andate a chiudere i cavi in questo modo, andando leggermente qualche centimetro qui su, ecco, chiusura, a posto, allora, simuliamo, io ho fatto finta, facciamo ad esempio che questo sia già guainato allo stesso modo dell'altro, con il nastro, o col termore stringente, e andate a chiudere con un altro termore stringente, logicamente dovete infilarli prima che mettete i connettori, giustamente, e lo mandate più su, il termore stringente lo manterete più su, in modo che se alla fine il nastro arriva qui, voi mandatelo un paio di centimetri, due centimetri più su, e lo chiudete, in modo che non si vede niente, e sembra un cavo sdoppiato. Questo cavo io l'ho visto anche in giro adesso, l'ho visto, questo switch, l'ho visto in giro, lo vendono, sì, ma adesso, ma 30 anni fa non c'era, e quindi si faceva in questo modo, si fa tuttora in questo modo, Io vi ho fatto vedere adesso che questi cavi, ne ho preparati due per simulare, con il macchinario, con il tester, per testarli, ma vi ripeto, normalmente vanno due al modem, comunque vanno dietro, quindi li metterete dietro un armadio, un commo, quello che sia, dove il modem, quindi questo va tutto dietro, non si nota, e fino alla presa, ok? Che potete utilizzare diretta, io non consiglio, allora vi spiego subito, come il discorso della parabola che ho fatto nella prima parte, nella seconda se non mi ricordo, che succede? Che non vi consiglio di mettere 40 prese, cioè, allora, questa va inserita al modem, poi questi vanno inseriti alle prese, poi dalle prese ripartono, se è possibile, fateli diretti, cioè, se state, ad esempio, se c'è un mobile che non sapete che non sposterete mai, dalla presa escono diretti i fili, diretto, che va fino su, diretto, e poi un po' più lungo, e poi vi preparate questi due, ok? Diretto, in modo che andrà nel modem gli spinotti, e dall'altra parte potete inserirli in una presa che poi metterete alla fine, due prese, in due prese, adesso ho messo due connettori, o due connettori, se servono più lunghi, se servono per due pc, distinti, evitando la blan, perché la blan, sì, è comodo, ci sono molti tipi per far passare i tipi, cioè, cioè, i D-Link Go, ad esempio, per farvi un esempio, che sono degli apparecchi che passano tramite la corrente, cioè, la LAN, simulate un filo tramite la corrente, che, sì, sono buoni, ma eviterei per un semplice motivo, ho notato, quando li installavo, che se ci sono due appartamenti, sotto e sopra, con due quadri distinti, cioè, magnetarmiche differenziali sopra e magnetarmiche differenziali sotto, e si davano fastidio, cioè, la luce rimaneva arancione, non verde, non tutte e due verdi, si davano fastidio, poi, un fulmine, uno sbazio di tensione, brucia le prese, e vi brucia anche la LAN del pc, cioè, eviterei un po', se è possibile, puliti in questo modo, molto meglio, ok? Ok? Ragazzi, io vi ho fatto vedere come si sdoppiano i cavi, perché qualcuno, più di qualcuno me l'ha chiesto, e io, ho detto benissimo, ci faccio un tutorial, infatti, come si può notare, l'ho fatto vedere prima, allora, vi faccio vedere comunque gli schemi, allora, questo qui è lo schema diretto, con i due connettori che sono diretti, ok? Questo qui è lo schema incrociato, eccolo, da una parte il verde, dall'altra sono gli arancioni, sono scambiati, questo è incrociato, quindi, e questo qui è lo schema proprio, che potete fermare e vedere, eccolo qua, quindi, diretto, incrociato, eccolo qua, cioè, diciamo, che vi fa vedere come vanno posizionati i fili, Quindi, come si può notare, soltanto gli arancioni, eccolo il discorso che dicevo, uno, due, tre, saltiamo il quattro, cinque, il sei, eccolo qua, quindi l'arancione, che qui hanno messo, vabbè, è giallo, ma è arancione comunque, eccolo qui. Ragazzi, noi ci vediamo, spero di essere stato chiaro, molto semplice, mi sono dilongato perché, a parlare, perché comunque sia, si deve spiegare bene, Perché io, personalmente, se no, odio video con musico, cose strane, odio, perché, anzi, dovrei pure interagire, se è possibile, perché se non capisco una cosa, come a scuola devo interagire. In questo caso, non possiamo interagire, quindi, ripeto, più volte, e vi spiego con calma. Ecco come si fanno, cioè, lo sdoppiare un cavo con due LAN. Ci vediamo, noi ci vediamo nei prossimi tutorial. Ciao, ragazzi!